FITTERS 2014, oggi 14 settembre 2014, si chiude un corso di tre mesi interi. Ciao Samuel! Ciao, come va? Tutto bene? Tutto bene, ecco, ci troviamo qui con il grande maestro Samuel Peron, che tutti quanti conoscete ormai con... Ballando con le stelle. Ecco, che tu lo pronunci bene, ovviamente. Allora, dicci qualche cosa, come sta andando la sedata? La sedata, da quanto sto vedendo, sta andando molto molto bene. Ci sono diverse attività, dall'aerobica, al fitness, in genere, dalle danze, al sport con pallavolo, beach tennis, beach volley, spinning, c'è di tutto e di più qui stasera. Stasera è la serata di chiusura e hanno coinvolto anche me e altri miei colleghi di Ballando con le stelle e stiamo tenendo degli stagi di danze latinoamericane e danze standard. Adesso tu mi chiedevi, come andrà con Ballando con le stelle? Mi ha anticipato! Eh, infatti, Ballando con le stelle inizierà qui a breve, domani... No, sì, domani iniziamo con le prove, perché la prima puntata è il 4 di ottobre e se ne vedranno delle belle. Miglia ha già presentato il cast attraverso Facebook e tutti i programmi di social, quindi il cast si sa chi è. Non si sanno le abbinate, le accoppiate, neanch'io lo so con chi capiterò, quindi sarà tutta una sorpresa. E questo è importante, perciò ricordiamo, 4 ottobre, Ballando... Con le stelle. Con le stelle e da domani già comincia, 15. Domani iniziamo con le prove, quindi avremo il nostro bel da fare. Però per stasera siamo qui. Perfetto, allora noi ti ringraziamo intanto e buon proseguimento. Grazie a voi, ciao! Ciao, grazie!